1-1 prima L'idea nasce tre anni fa circa quando poi ho conosciuto Simone e Alfredo, i produttori, e avevo un'idea per un film che avesse sempre come protagonista una figura femminile, una ragazza, in un ambiente di montagna. In un mondo legato allo sport, allo sport amatoriale. Questa storia poi ha preso una piega più complessa perché chiaramente poi non è solo la storia di una ragazza ma è la storia di un rapporto, di una relazione. Renzo, il regista, ha avuto l'intelligenza di, nel momento in cui arrivava il tornado, aprire porte e finestre e far passare la vita in mezzo. Invece di rimanere asserragliato a un'idea che, viste le condizioni e viste le persone, poi non è affatto comune trovare una partner di lavoro come Carlotta, e non è un regista così intelligente e duttile. Per cui alla fine credo che per una volta si può dire senza retorica che veramente l'abbiamo fatto insieme. Questa è una stelletta che va a Renzo e due micro stellette a noi anche. Posso fare la domanda? Vai, vai. Noi non abbiamo un raccordo. Non è un raccordo diretto, per me non è un raccordo diretto. Siccome abbiamo un po' di trick, di posizioni, specchietto, cose per parlare così, è... Vieni con. Azione! Io ho iniziato già dagli allenamenti precedenti. alle riprese a sentire tutta quella fatica, tutta quella difficoltà a imparare quello sport e quelle sensazioni si sono riversate esattamente nel personaggio. Sì, vabbè, la difficoltà dello sport sicuramente esiste, però anche questa cosa di pensare di non riuscire a impararlo e poi impararlo, è stato esattamente un po' anche come nella psicologia del personaggio di Maria, cioè era tutto legato alla fine per me. Il mio personaggio è il personaggio di Tom ed è un ex atleta che in passato ha fatto dei cicli dopanti e che aveva fatto dei tempi che gli avevano permesso di qualificarsi per le Olimpiadi, solo che poi è stato appunto beccato dall'anti-doping e la sua carriera finisce, si stronca. Passa del tempo, dei mesi, degli anni e in qualche modo lui un po' per coincidenza e un po' per vendetta e ora incontra e rincontra e segue e insegue il personaggio di Johnny, che appunto era il suo ex allenatore. Di già il nome non ha... strada facendolo ha perso, non viene mai nominato e non... infatti non so come farà in editori di coda. Lui! Lui! Io sono la mamma della protagonista Maria, sin da quando ho letto la sceneggiatura mi è apparso un personaggio difficile, sì, ma con il quale mi potessi divertire tanto. La difficoltà sta, secondo me, nel riuscire a trovare la misura di una donna che in alcuni momenti è completamente svalvolata, perché è alterata nell'umore da queste sostanze che prende e poi nel riuscire magari a trovare anche una forma di maternage, di accoglienza nei confronti di questa figlia, verso la quale lei vorrebbe in qualche modo sentire maggiormente il ruolo di madre, e poterla aiutare, ma non ha la forza, non ha in quel momento le capacità. Come succede purtroppo nella vita a tanti genitori che hanno dei figli che fanno lo sport, si identifica con i successi della figlia e quindi è disposto man mano a perdere qualunque cosa, purché questa missione malsana riesca. quindi perde il contatto umano sia con lei, sia con il mondo che lo circola moglie, sia con il mondo che lo circonda fondamentalmente.